Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del corecomo Piemonte. Siamo con Elio Balistreri. Elio Balistreri è del Consiglio nazionale di Anmil, rappresentante della regione in Piemonte. Dunque, in Piemonte Anmil ha quasi 20.000 iscritti e circa 9 sezioni, senza contare le numerose altre sottosezioni. Quindi una presenza molto importante. A Balistreri chiediamo cosa Anmil, come fa il supporto ai cittadini e agli associati? Noi siamo, come tu hai già detto, siamo presenti in nove sezioni e tante altre sezioni. Noi assistiamo i nostri associati e nelle varie province andiamo avanti con dei progetti. Ad Asti abbiamo fatto il progetto Icaro con la scuola, ad Alessandri abbiamo fatto un progetto di testimonianza per gli invalidi e a Vercelli siamo entrati nelle aziende per sensibilizzare i lavoratori per la sicurezza e le norme sui lavoratori. Ecco, parliamo del progetto della testimonianza. È molto importante perché mette a contatto diretto da una parte gli invalidi del lavoro con i ragazzi, gli studenti che quindi possono apprendere direttamente dalla loro esperienza. Prego. Infatti noi siamo entrati nelle scuole medie e nelle scuole professionali proprio per sensibilizzare i futuri lavoratori. Sono quelli che dovranno poi portare avanti il nostro progresso in sede nazionale e perciò con questa testimonianza noi li informiamo sulle norme di sicurezza e sui nostri infortuni che noi abbiamo subito anche per un po' di sottovalutazione delle norme di sicurezza sui posti di lavoro. Ecco, quali sono i temi, i problemi che gli utenti, gli associati manifestano ad Anmil? In particolar modo noi come patronato e come assistenza medico legale possiamo seguire i nostri associati con i ricorsi. I ricorsi che vengono fatti all'INA e come ente erogatore di indennità infortunistiche e all'INPS per l'invalidità civile. Noi come ANMI abbiamo la possibilità di fare gli aggravamenti i primi quattro anni, tutti gli anni, il settimo anno e il decimo anno. Il decimo anno, ahimè, chi non ha avvicinato l'associazione per far seguire nei ricorsi contro l'INAIL non può più fare niente perché rimane definito a persino. Invece per le malattie professionali noi abbiamo la possibilità di ricorre ogni anno per i primi 15 anni dalla malattia professionale. Dopo i 15 anni noi non possiamo più seguire perché la legge ce lo impedisce. Seguiamo anche gli invalidi e le persone anziane per le invalidità civili e per gli accompagnamenti. Bene, quali sono i servizi e di quali professionalità vi avvalete per poter venire incontro a queste necessità degli utenti e degli associati? Noi in tutte le zone abbiamo sia i medici legali che ci seguono e ci supportano nelle varie ricorsi che facciamo agli enti e proposti e gli avvocati qualora ci sia la condizione di ricorrere. Faccio presente anche che noi seguiamo attentamente il Piemonte e il Casalese al problema dell'amianto con di varie cause proprio per far riconoscere agli invalidi il problema del riconoscimento dell'amianto. Bene, ringraziamo Elio Balistreri del Consiglio nazionale di Ammi e rappresentante del Piemonte. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie a te. Buongiorno, sono Bruno Mellano, garante dei detenuti della Regione Piemonte. Sono qui ospite di questa trasmissione a nome per conto dell'associazione internazionale Nessuno Tocchi Caino Spes Contra Spemma, un'associazione che da decenni lotta contro la pena di morte nel mondo, contro la pena fino alla morte, contro la morte per pena. Un gioco di parole che dice molto però rispetto alle condizioni dei detenuti nel mondo ma anche in Italia. Sono anni significativi quelli che abbiamo vissuto nella difficoltà della pandemia negli ultimi due anni. Significativi perché le alte corti italiane e internazionali sono intervenute sulla vicenda più significativa dell'esecuzione della pena in carcere, quella legata all'ergastolo, al fine pena mai. Da prima la Corte Europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo, è intervenuta a metà del 2019 sostanzialmente dicendo all'Italia che una pena fino alla morte è incompatibile con l'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Non si può, nessuno Stato può tenere in carcere una persona senza neanche la speranza di un'uscita, di un'uscita al termine di un lungo periodo, al termine di un percorso di recupero e di reinserimento. Questa sentenza, la sentenza viola contro Italia, ha sancito una strada su cui poi è intervenuta anche la Corte Costituzionale italiana che nel maggio del 2021 ha detto che l'ergastolo ostativo, l'ergastolo senza possibilità di permessi, di recupero, di reinserimento, non è corrispondente all'articolo 27 della nostra Costituzione. Quindi un percorso importante, un viaggio della speranza, come l'ha intitolato l'Associazione Nessuno Tocchi Canino che da anni sta facendo dei laboratori tematici e giuridici nelle principali più grandi carceri del nostro paese. Da Opera a Secondigliano, da Parma a altri carceri, non in Piemonte ma in altri contesti italiani, un percorso con le persone condannate a fine pena mai, proprio anche per dimostrare che se c'è la volontà di un recupero, di un reinserimento, non si può vincolare questo recupero, questo reinserimento a qualche vincolo di codice. Si è parlato molto della questione della collaborazione che in alcuni casi è una collaborazione costretta per poter ottenere dei benefici. Ecco, la Corte Costituzionale, la Corte dei diritti europei ha detto che comunque un paese civile e democratico deve prevedere un percorso di speranza. Ha codificato il diritto alla speranza, anche per il più cattivo e per il più colpevole dei detenuti. Noi abbiamo nel nostro contesto italiano 750 persone in esecuzione penale del cosiddetto carcere duro, il 41 bis, una detenzione in deroga all'ordinamento penitenziario. Poi abbiamo altri 8.800 detenuti in alta sicurezza, che sono in qualche modo la manovalanza della criminalità organizzata. Sono un numero significativo, ma non un numero altissimo. Abbiamo in questo momento circa 53.000 detenuti nel nostro paese e 10.000 sono in qualche modo riconducibili a degli elementi veri di pericolosità sociale, di importante pericolosità sociale legata alle organizzazioni criminali. Allora uno Stato forte, democratico e liberale deve riuscire a puntare anche per questi soggetti ad un percorso certo di collaborazione, certo di interesse per la ricerca della giustizia e per scoprire gli autori di reato e scoprire le grandi risposte alle più efferati crimini della nostra storia, ma deve dare alla singola persona che magari ha compiuto un reato o più reati efferati in giovanissima età un diritto alla speranza. Il viaggio della speranza è anche un libro che nessuno tocchicaino ha prodotto sulla traccia del congresso di opera del dicembre 2019. E' importante riflettere, lo hanno fatto le alte corti per noi, facciamolo anche noi come cittadini, come operatori del diritto, come soggetti interessati alla giustizia giusta. Buongiorno, ieri è stata una giornata difficile, una giornata particolarmente difficile e stanotte ho passato la notte in bianco, non ho chiuso occhio. I pensieri si accavallavano, avevo tante cose che mi passavano per la testa e provavo un'infinità di emozioni, rabbia, angoscia, paura e sentivo forte il desiderio di condividerle con le emozioni e le volevo condividere con qualcuno in quel preciso momento. Ma come fai a svegliare qualcuno di notte, a chiamarlo? Magari hanno famiglia, hanno figli, puoi spaventarli, puoi spaventarli. E poi mi sono ricordata, a un certo punto mi sono ricordata di un numero di telefono, il telefono amico, che c'è e c'è anche di notte. E ho provato a farlo questo numero e mi ha telefonato, anzi, mi ha risposto una persona e il solo fatto che mi abbia risposto mi ha reso felice, perché in qualche modo ha accolto tutti quei pensieri che mi passavano per la testa, mi ha aiutato a districarli, ha accolto tutte quelle emozioni che avevo voglia di condividere con qualcuno. E quindi a questo servizio, a questo telefono amico, io volevo dire un grazie. Buongiorno a tutti, sono Vittorio Berilacqua, sono il vicepresidente dell'associazione sportiva Joyful, l'associazione che nasce nel 1965 da un gruppo di amici che abitavano tutti in un condominio, che decidono di costituire uno Sciclub. E nasce questo team che chiamano Sciclub Joyful Brothers, i fratelli gaudenti, i fratelli allegri, in quanto proprio questo era lo spirito di quella associazione, quello di creare un'associazione sportiva in cui tutti i componenti fossero degli amici e che si divertissero tutti insieme. Il nostro Sciclub assume poi negli anni, alla fine degli anni 70, questo marchio un po' particolare, la J con le stelle e le strisce, che non vuole essere legata al discorso americano per nessun motivo politico o altro, ma semplicemente perché in quegli anni andava per la maggiore un sacco di gadget e di simboli americani. Ricordiamo il numero uno di una grande casa di motociclette americane, oppure il segno di Vittoria, che veniva utilizzato con le stelle e strisce e anche in quel periodo è stato un po' clonato questa moda per creare il nostro simbolo Joyful, che ha avuto successo e è piaciuto e rimane tuttora. Quando abbiamo compiuto 50 anni abbiamo creato questa immagine, questa divisa che assomiglia a un po' bandiera vintage, un po' lavata, un po' vecchia e è piaciuta molto ai nostri soci, ai maestri di sci e quindi continuiamo a utilizzarla. Che cosa facciamo noi come Sciclub? Soprattutto la nostra filosofia si riassume in allievi, atleti, amici. Quello che è un po' il nostro slogan, cioè noi cerchiamo di fare dello sport portando l'amicizia, portando i valori della lealtà, dello sport, senza un agonismo esasperato, cercando di tenere i nostri ragazzi in un modo tale che rimangano amici anche al di fuori delle piste di sci e dello sport. Un altro nostro slogan è proprio sport, passione e divertimento che riassumono un po' queste cose. È molto frequente che i nostri ex allievi iscrivano i loro figli a loro volta nel nostro Sciclub e di questo ne siamo molto orgogliosi. Abbiamo anche un'attività che supera la parte invernale della neve, anche durante l'estate, a parte lo sci estivo, ci sono gite, portate le tendate in quota con i maestri di sci che accompagnano i ragazzi a fare delle escursioni, del trekking, i cani da slitta, le passeggiate così in montagna. Quindi cerchiamo di dare un'attività a tutto tondo anche nei periodi in cui la neve è assente dalle piste. Un altro argomento che ci sta molto a cuore è quello dell'inclusione. Siamo molto contenti e molto fieri di avere tra i nostri atleti un ragazzo che ha un handicap intellettivo, è un atleta a Special Olympics e fra l'altro molto bravo e che è perfettamente integrato con i nostri gruppi, con i nostri amici, con i nostri ragazzi. Devo dire in una maniera vera, dove non ci sono veramente barriere tra i ragazzi e Luca. Si fa la vita insieme, anche nelle trasferte si sta in camera insieme. Assolutamente un'attività totalmente inclusiva e fra l'altro lui è molto bravo a sciare, e il medagliador Special Olympics da tre anni in gigante discesa e quindi ci fa molto piacere avere tra i nostri atleti un ragazzo che veramente sta bene con noi. Di questo ne siamo anche fieri e questo fa parte un po' del sistema di educazione che cerchiamo di dare ai nostri ragazzi in questo complesso di attività, di sport e di educazione alla vita. Grazie. Sono Barbara Daniele di Lega Coppie Monte, buongiorno. Oggi parliamo di cooperazione a servizio dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La forma cooperativa è uno strumento strategico per interpretare la professione medica in modo aggregato, migliorando le prestazioni sanitarie nei confronti dei pazienti, realizzando economie di scala a favore dei medici e organizzando il lavoro medico in modo più efficace sia per se stessi che per la propria utenza. Il tutto in un contesto democratico e partecipato come quello cooperativo, che consente ai soci medici di mantenere la propria individualità professionale fruendo al contempo dei vantaggi del lavoro in gruppo. Per le cooperative di medicina generale lo scambio mutualistico prevalente è rappresentato dall'utilizzo da parte dei soci dei servizi offerti dalla cooperativa. Per la gestione di strutture complesse, quali le microteam, aggregazioni funzionali territoriali, unità complesse di cure primarie e per l'asvolgimento di servizi a favore degli associati medici, quindi la gestione del personale di studio, del personale infermieristico, dei sistemi informativi, dell'acquisto di beni di consumo, di attrezzature, di strumentazione diagnostica, insomma di tutti quei servizi a supporto della professione medica. In questo senso le cooperative di medici di medicina generale possono contribuire a migliorare e rafforzare la medicina territoriale rispondendo ai bisogni di assistenza e prossimità dei cittadini, anche in partnership con le cooperative sociali che svolgono servizi di cura alla persona e allo stesso servizio sanitario nazionale. Per questo motivo vi presentiamo oggi l'esperienza di una nostra associata, una cooperativa di medici di medicina generale che opera in pianezza, che testimonia l'efficacia dello strumento cooperativo nella gestione dei servizi in campo medico. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Sergio Pernambè, medico di medicina generale, partecipe e coordino una medicina di gruppo di 8 medici di medicina generale con 4 segretari e 2 infermiere. Operiamo sul territorio di un comune della prima cintura del Torinese. Pianezza è un comune con circa 15.000 abitanti, abbiamo in carico gli 11.600 adulti di questa popolazione con i quali abbiamo una media di 10 contatti all'anno realizzando circa 110.000 contatti all'anno per tutti quanti. Abbiamo circa 4.490 pazienti con patologie. Nel 2017 ci è stata offerta una struttura di 600 metri quadri, un immobile intero su tre piani, che ci ha messo di fronte alla fragilità della nostra società di supporto al lavoro della medicina di gruppo perché si trattava di una società professionale semplice. ovviamente gli impegni economici, organizzativi e di esigenze di investimento non ci consentivano di lavorare in sicurezza con un assetto societario di questo genere, per cui abbiamo deciso di trasformarci in una cooperativa di servizi con tutti gli 8 medici soci di questa cooperativa per garantirci la possibilità di avere accesso al credito, possibilità di investimento, solidità anche nel tempo della nostra condizione economica. Di fatto questo si è rivelato una scelta assolutamente fondamentale soprattutto a partire da febbraio del 2020 quando siamo stati travolti dal Covid per cui abbiamo verificato e toccato con mano la bontà della scelta per, primo, del lavorare in medicina di gruppo perché questo ci ha dato una garanzia di integrazione professionale estremamente importante, mentre la società cooperativa ci ha dato la garanzia economica di reggere in una condizione di questo genere, tanto per dire sei di noi si sono ammalati immediatamente creando una condizione di rischio, di chiusura della struttura, per cui siamo riusciti comunque, lavorando in gruppo e avendo le risorse economiche derivanti dal gruppo, a garantire la stabilità dell'intera situazione. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione!